Oggi siamo qui da Luzban perché viene presentato una nuova buca, ci puoi raccontare qualcosa di più? Sì, chiaramente l'infrastruttura che presentiamo oggi è una infrastruttura che ci permetterà di poter supportare tutto quello che è il settore dell'Iota a vela sopra una certa dimensione. Chiaramente puntiamo a dare un servizio per tutto quello che sono imbarcazioni a vela dai 40-45 metri fino ai 70 metri. È un grande progetto che fa parte di un investimento più completo? Sì, certamente l'azienda negli ultimi due anni e per i prossimi due ha in programma di fare degli investimenti che ad oggi sono arrivati a circa un 50% di quello previsto che sono andati a interessare tutta l'area di fronte al bacino galleggiante e le banchine di quell'area e poi andranno a completarsi con tutto quello che è la palazzina servizi sia per le imbarcazioni che per aziende che devono esercitare nel settore refit e in ultima istanza anche per quello che è la struttura degli uffici che saranno destinati poi al personale l'USB interno. Qual è la particolarità di questa buca? Perché è così importante? La particolarità sono due. Una, quella che abbiamo fatto noi ha una dimensione tale che nel Mediterraneo oggi non era presente quindi ci permette di essere unici in considerazione delle dimensioni di cui è dotata. Chiaramente spesso le imbarcazioni a vela hanno una necessità che è dovuta a questioni legate anche agli enti di classifica di dover aprire la deriva mobile, smontarla e andare ad intervenire in tutti quelli che sono gli impianti all'interno. Chiaramente non avendo questa struttura, questo tipo di attività non era possibile farlo. Cosa pensano i vari clienti? Già avete comunque un po' il polso della situazione rispetto a questo nuovo progetto? Sì, personalmente sono stato contattato da persone che gestiscono o comandanti stessi di imbarcazioni a vela che sono venuti a sapere di questa infrastruttura che sarebbe stata pronta e chiaramente sta diventando un interesse, un passaparola importante anche perché tutto quello che orbita sul settore vela, compresi gli equipaggi io lo definisco sempre come una setta perché si conoscono tutti, parlano tra di loro si scambiano spesso gli imbarchi o ruoli nella gestione delle imbarcazioni a vela e quindi chiaramente riuscire a entrare in questo cerchio ristretto ci permette poi di avere dei punti a favore anche nella gestione. Grazie